we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi ovviamente il tutorial per le sfide della settimana numero 2 di questa stagione 3 del capitolo 2 di fortnite una delle sfide di oggi ci chiede di andare a recuperare gli unicorni gonfiabili di deadpool e allora dove bisogna andare per fare questa missione beh ragazzi semplicissimo bisogna ovviamente raggiungere il vecchio yacht di deadpool quindi quello che c'è in alto sulla mappa tutto distrutto sapete benissimo dove lo vedete dalla mini mappa il primo unicorno ragazzi lo stiamo vedendo in questa immagine ed è esattamente sul bordo sinistro dello yacht quindi voi ci atterrate puntando la punta state a sinistra e come vedete ragazzi la c'è sul bordo il primo cavalluccio gonfiabile il secondo invece ragazzi lo state vedendo in questo momento è dentro un container come si fa a capire qual è il container beh è semplicissimo anche qua perché il container è questo qua arancione per farvi capire vi tolgo un attimo la mia videocamera vedete ragazzi in alto a sinistra c'è la coda dell'elicottero quindi voi dovete prendere in considerazione l'elicottero parcheggiato e lì dietro il container arancione quindi proprio questo qua gigante dentro lì c'è il cavalluccio gonfiabile numero 2 per l'ultimo invece ed il terzo che è davvero semplicissimo anche esso si trova dentro un container ma è molto più facile capire qual è perché basta che voi vi portiate in questa angolazione quindi siamo nella parte dietro dello yacht come vedete là in fondo ci sono le barche sospese dalle gru e questa casetta arancione è quella che contiene il terzo unicorno gonfiabile quindi ragazzi veramente semplicissimo trovarli fatelo perché vi prendete un bel po di v bucks io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao